L'assemblea dei soci di lunedì prossimo sarà spartiacque fondamentale per i destini del Teramo alle prese con una situazione complessa, ma che in un modo o nell'altro andrà risolta perché la scadenza del 22 giugno si avvicina a rapidi passi, nonostante in Lega Pro manchi ancora il verdetto finale della quarta promossa in cadetteria. Fare qualcosa e farlo presto l'imperativo è categorico perché dopo il comunicato della settimana scorsa di Franco Iachini sulla situazione debitoria del club, adesso più che accertare le responsabilità, magari verrà fatto in una fase successiva sarebbe il caso di individuare la strada più percorribile nei giorni che restano alla deadline. Ecco perché l'assemblea del 6 giugno dovrà capire se ci sono i margini e quali sono per procedere ad iscrivere la squadra al prossimo campionato. Serve un esborso consistente, anche considerando che sono appena stati ufficializzati i tanti criteri per la domanda di ammissione al prossimo torneo. In quell'assise ci saranno i curatori giudiziari, la Ismedia e Franco Iachini che insieme rappresentano la quota di minoranza, 31 più 9%, è necessario depositare presso la Lega Pro la domanda di ammissione al campionato di Serie C 22-23. Questa deve contenere la licenza nazionale, le società devono provvedere al versamento della quota associativa e delle quote di partecipazione alle competizioni dell'importo di 60.000 euro. Poi c'è da depositare presso la Lega Pro l'originale della garanzia fideiussoria dell'importo di 350.000 euro. In più bisogna ottenere le liberatorie, ovvero aver ottemperato al saldo degli emolumenti della stagione appena conclusa. Poi la squadra, lo staff tecnico e tutto il resto. Non sarà semplice dunque perché ai soci verrà chiesto un finanziamento, uno sforzo finanziario che possa dare il via libera in prima istanza all'iscrizione. Lunedì ci sarà la risposta anche considerando che in questo momento, seppur a fare i spenti, c'è chi sta disegnando anche un piano paracadute, una sorta di via d'uscita nel caso la situazione dovesse precipitare. Inutile girarci attorno, il piano B serve, ma per ora serve anche riporlo nel cassetto, sperando di non doverlo mai prendere in considerazione. Lo slittamento a settembre dell'udienza per il ricorso dei Ciaccia contro il sequestro preventivo dei beni non è stata la pietra tombale su nulla, ma solo perché anche l'eventuale udienza di ieri, qualora si fosse tenuta, non avrebbe comunque portato ad una soluzione definitiva. Così, come a questo punto, serve qualcosa in più di una soluzione ponte, serve qualcosa in grado di dare stabilità ad un club che continua a tenere la propria tifoseria col fiato sospeso e questa volta l'obiettivo del raggiungimento della salvezza non c'entra proprio niente.